Scusi, lei ha dei problemi? No, tu? Lei ha dei problemi, fra Oh, fra Ti ha dei problemi, fra, che mi fai un filmino Carmine Ti piace, eh? Sì, sei sexy Guarda un po' questa cassa Ti piace che è sensuale o no? Oh, sai che andrai su Facebook? E che cazzo se ne fai? Tra poco dove andiamo, Carmine? I ragazzi gattarelli morti Chi sono? E chi cazzo se ne fai? E' stato il sangue Ma sai questo, a cosa faccio? Ma è dolce n'è Basta un saluto, non c'è la cassa Vediamo su Facebook Sì Saluto, andò Con una grappa a mano Cono Adesso, andò, andò, e saluto Ok, c'è Grazie.